A Piedimonte Etneo stamane è stata inaugurata la Bambinopoli in via Colonnello Messina all'ingresso della cittadina etnea per chi proviene da Mascali. Le attrezzature ricreative per i piccoli sono state realizzate con parte delle indennità di sindaco e assessori per il primo cittadino Ignazio Puglisi. Quest'opera rappresenta una testimonianza importante. Questo è l'ennesimo intervento che facciamo a Piedimonte utilizzando il 50% delle nostre indennità alle quali abbiamo rinunciato fin dal nostro insediamento. Questo è un ulteriore motivo di orgoglio per una iniziativa che già di per sé rappresenta un momento molto importante per la nostra collettività, finalmente uno spazio adeguato per i nostri bambini. L'ambizione è quella di fare di Piedimonte una città dei bambini dove i nostri piccoli concittadini devono trovare ogni comfort per una crescita adeguata. L'impegno dell'amministrazione va verso la scuola ma va anche verso momenti ludici che sono estremamente importanti per una crescita sana dei giovani piedimontesi. Grande soddisfazione oggi per il nostro paese, è veramente un momento di festa e poterlo condividere con i piccoli piedimontesi lo rende veramente speciale. Grazie.